Niente simbolo dell'Unione dei Siciliani a supporto del civico Lucio Greco. I vertici del movimento fondato dal vicepresidente della regione Gatana Armao alla fine hanno deciso assieme ai vertici locali di non presentare il simbolo UDS come ha dichiarato Armao in un'intervista al nostro giornale online quotidiano di Gela.it. Il centrodestra locale ha la responsabilità di non essere riuscito a compattarsi su un unico candidato come invece accaduto alla regione, dice Armao. In questa situazione Unione dei Siciliani non si schiera, faccia un appello a tutti. Si trovi l'unità su un unico candidato condiviso. Siamo Unione e non divisione dei Siciliani. Spero che eventualmente si possa arrivare ad un accordo in vista del ballottaggio. Gli esponenti locali convermono la scelta di appoggiare Lucio Greco come dichiara Salinitro ai nostri microfoni. La scelta l'hanno lasciata Unione dei Siciliani di Gela ma prendiamo atto che c'è questa preoccupazione di non schierare un simbolo in una situazione data che vede il centrodestra spaccato per cui ci è stato detto decidete ma tenete conto di questa cosa decidete cosa ritenete giusto fare. La nostra scelta è stata quella di tenere conto di queste preoccupazioni che sono anche nostre naturalmente. Noi vorremmo vincere le elezioni e l'unità è un valore fondamentale per cui abbiamo scelto di non utilizzarlo il simbolo. Abbiamo fatto un comunicato che specifica un po' questa situazione. c'è anche una precisazione da parte del coordinatore nazionale dell'Unione dei Siciliani che ribadisce esattamente quello che poi nel nostro comunicato avevamo già inviato alla stampa. Quindi diciamo che l'auspicio che ci sia una compattezza da parte del centrodestra c'è e rimane. Noi ne teniamo conto, lavoreremo con un nostro simbolo provvisorio sostanzialmente che è quello che ci porterà alla conclusione delle elezioni amministrative rimandando a dopo un ritorno ancora alla simbologia precedente sperando che in quel momento la compattezza sia stata ritrovata. Questo è il senso di questa cosa. Da un confronto che abbiamo avuto ieri a Palermo il punto focale che preoccupava un po' i presenti era quello di questa divisione di Forza Italia, del centrodestra e di tutti i movimenti che concorrono alle prossime elezioni. Quindi in presenza di questa divisione si è ritenuto e io ho accettato questa cosa. Ovviamente mi ero riservato di parlarne all'interno del nostro gruppo locale a cui era stata lasciata libertà di scelta in tal senso. Abbiamo scelto di andare in questa direzione. In presenza di una divisione delle forze di centrodestra noi non ci schieriamo come Unione dei Siciliani ma ci schieriamo comunque come lista, come raggruppamento sosteniamo senza remore con la massima convinzione Lucio Greco sindaco. Quindi questo continua, non cambia di una virgola la situazione semplicemente questo aspetto. Il simbolo Unione dei Siciliani ritorna nel momento in cui l'Unione del centrodestra si ricompatta. Questo è quando. Poi per il resto tutte le altre scelte tutte le altre motivazioni, il programma, gli obiettivi ciò che vogliamo fare per la città rimane in piedi in maniera totale.